Aumentano in Piemonte le vittime sul lavoro. Nel 2012, ad un mese e mezzo dalla fine dell'anno, sono già 74. Un dato fornito ieri dal direttore regionale dell'INA e l'Antonio Traficante in Commissione Lavoro al Comune di Torino. I dati 2012, ha detto il Presidente della Commissione, Domenico Mangone, sono allarmanti. A fronte della diminuzione del lavoro, i morti superano già quelli del 2011. Gli infortuni non mortali in Piemonte tuttavia sono in calo. Nel 2011 sono stati 55.660 contro i 60.014 del 2010. Nel 2010 e 2011 l'INA e l'Inoltre ha destinato 270 milioni a fondo perduto, di cui 17 destinati al Piemonte, alle imprese per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.